Nuovo aggiornamento dalla redazione di Flores Montimedia, ancora Mauro Ciutini in studio, buon sabato, un veicolo fermo sulla strada di grande comunicazione tra Cascina e lo svincolo di Gello in direzione Livorno, altro veicolo in difficoltà in A11, la Firenze-Pisa, tra Monte Catini e Chiesina, Uzzanese, direzione Pisa. Due controlli di velocità in A1 tra Arezzo e Monte San Savino in direzione Roma e in direzione Firenze, tra Incisare Gello e Firenze Sud. Rallentamenti per lavori sul raccordo Siena-Firenze, siamo tra lo svincolo di Firenze in Pruneta e San Casciano Nord in direzione Siena, rallentamenti sulla Grossetto-Fano, qui dovuti ad una frana tra Alberoro e Montagnano. Per quanto riguarda gli aerei, il volo da Parigi in arrivo a Firenze alle 19.30 è previsto invece l'atterraggio alle 21.00. Lavori per la tramvia a Firenze, chiudiamo, previsti dal 20 al 25 marzo, divieti di sosta e restringimenti in via Alderotti. Muoverci in Toscana grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze.